Quello che si appresta alla trasferta di Recanati è un campo basso che non conosce sconfitta da 11 turni caratterizzati da 7 vittorie e 4 pareggi se solo si pensa a come era iniziata la gestione Bagatti cioè con due pareggi ed una sconfitta si può dedurre come l'allenatore modenese abbia davvero saputo creare un gruppo omogeneo e che rema nella stessa direzione. L'impressione che si ricava vedendo giocare il campo basso è che i ragazzi con la divisa rosso-blu si divertano giocando. Così è stato contro una molle san giustese spesso salvata anche dal suo estremo Chiodini Bagatti nonostante i suoi 27 punti in 14 partite da tecnico rosso-blu vuole volare basso e puntare come obiettivo primario alla salvezza per la quale occorrono secondo il tecnico circa 45 punti poi quanto di buono verrà il campo basso sarà bravo ad incamerarlo. A Recanati si va senza lo squalificato Ranelli che ha giocato il recupero contro la san giustese era stato espulso per doppio giallo contro la Iesina ma la sentenza del giudice sportivo che lo ha fermato per un turno ancora non era stata emessa al momento della disputa di campo basso san giustese. In generale Bagatti sta facendo giocare tutti senza esclusioni. Il tecnico rosso-blu infatti si serve in ogni turno delle cinque sostituzioni disponibili. La consistente batteria di attaccanti potrà mettere in imbarazzo il tecnico. Si pensi che in quattro, cioè Cogliati, Giacobbe, Alessandro e Musetti insieme hanno segnato 21 dei 31 gol segnati dai rosso-blu. A proposito di Giacobbe c'è da registrare per il giocatore la frattura della mano destra confermata stamane da un esame diagnostico. Il giocatore aveva ricevuto una botta in allenamento martedì scorso a seguito della quale aveva dovuto giocare fasciato contro la san giustese. Possibile che a Recanati si verifichi la medesima situazione, cioè un impiego con tanto di necessaria fasciatura. Anche Isernia e Dagnone sono fuori casa per dei match di importanza fondamentale. L'Isernia va a Iesi contro una squadra che solo domenica scorsa a Selva Piana si è fatta apprezzare molto per dinamismo, meno per la concretezza sotto rete. Nel recupero di mercoledì ai Pentri è mancato il guizzo giusto per battere un Forlì che tuttavia ha anche meritato di pareggiare. Se c'è un difetto da imputare a Isernia è proprio questa pareggite persistente. Infatti il risultato è uscito più spesso sulla ruota di Isernia, ben sei volte in casa e nove occasioni complessive. Allo stadio Carotti di Iesi non ci saranno gli squalificati Silva, il tecnico guarderà la partita dagli spalti e il difensore fra botta. L'Isernia conta di ripetere il pesante successo esterno di due settimane fa a Sant'Arcangelo al cospetto di una Iesina che in casa è caduta quattro volte. A proposito di ex Isernia, nelle ultime ore l'ex portiere anche del campo basso Mario Landi ha raggiunto un accordo con il Messina, società di quarta serie inserita nel girone I. L'Olimpia agnonese continua negli spostamenti per trovare un campo giusto per gli allenamenti quotidiani. Anche ieri i ragazzi di Foglia Manzillo si sono allenati in quel di Trivento. Tra i disponibili sono tornati pure Bisceglia e Araldo. La trasferta di Avezzano probabilmente capita nel momento meno opportuno per le sorti della squadra alto molisana. Proprio domenica scorsa i ragazzi di Giampaolo hanno fatto il colpaccio di giornata espugnando 4-1 il campo del San Nicolò. Un segnale di grande forza dato al torneo. L'Olimpia proverà a contenere per poi pungere in contropiede con le armi che si hanno a disposizione, confidando pure in una discreta verve di Ribeiro che proprio contro il Cesena mercoledì ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Agnonese. Grazie a tutti.